Musica 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 Ufficiali di collegamento Cioè partavano le notizie Stanno bregati E barassi Ovviamente Ragazzi siamo qui in città di due giorni E' un vlog Gustoso La piazza si fa i cazzi Giusto Appena si attaccano si staccano Grazie Grazie Guarda Guarda E' più bello adesso il panorama Ragazzi vediamo i Nutelli Che pianta Fabio Dania Fabio Fabio Eh? Oh la vostra E' il cazzo che mi frega Non si vede neanche da qua Eh? Quella rete qua Sperà un po' che mi scrive Sè 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 Però Voglio farvi vedere una cosa Che questi qua non sanno Cioè voi lo sapete ma questi qua che stanno guardando il video non lo sanno Pronti Questa qua la mia valigia Come si sbagli agli appendini Raga allora Vi faccio vedere una cosa Non ridete Allora Io apro C'è uno zaino ok? Per evitare gli urti Il controller Aia brucia Ma soprattutto E dai e Guardiamo cosa c'è sotto Oh Usch Brucia Brucia La PlayStation Adesso mettiamo tutti ci vediamo Giusto? Bella Giusto? Dai chiudi Chiudi te Allora raga Ci siamo preparati Sei pronti per andare a mangiare? Che dai Sono mare Maria Io esco Guarda che i panetti Ok le dobbiamo mettere a posto noi eh Ah no Beh Si sono i dog Che cazzo Controllo se ci sono le doghe Ci sono tutte giù Buono Non togliere la chiave perchè non si vede più niente Non to- Ops Non togliere la chiave Look the bathroom Eh il bagno secondo me è la parte più bella che c'è in questa Devi accenderlo dalla missa Ah ok C'è schiche Bellissimo Però non è acceso tutto schiche Bellissimo Boh non è successo Bellissimo Che c'è lì? Che sci è? Oh no Ragazzi siamo tornati in camera Guardate che bel uomo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no E' un malacolo Non lo so No eh Così Oh no Oh no oh ma te cosa ci fai una nostra stanza? no 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 e tiиту? Giulio li fai indagno? oh io lo farei smesso prendi qualcosa per a pena Mh casodo il cosino lo ti da un anno in suonar gliel giancia le cartelline no giusto no ha finito tempo è finito non vuol ti beh che puttana mia nonna beh si putta appena appena si senti ma che puzza porca ma piove ancora tu sai che ti ho spingiato nel bagno ciao neri sei che spingiato mi sono scoperto mi porra bene col te ma perchè mi sento il centro al mondo il caffè della pepina non si beve la mattina e con la cena e col te ma perchè porcuti ciao 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 ciao